Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa velocissima guida in cui vi mostrerò come installare una mod che cambierà completamente la modalità storia di GTA V. La mod si chiama Along Winter e trasforma la modalità in singolo in una modalità survival, ovvero una modalità in cui dovremo sopravvivere a un'apocalisse zombie, cercando per la mappa armi, munizioni e soprattutto cibo e acqua che saranno fondamentali per sopravvivere. Quindi passiamo subito all'installazione, premete questo pulsantone in alto per scaricarla, vi dovrebbe scaricare un file zip o rar come questo qui, estraete tutto quello che ci sarà dentro dove volete, io ce l'ho qui nella cartella a fianco, e vedrete che ci sono tanti file più una cartella update. Noi andiamo a copiare tutti i file tra nella cartella e li andiamo a incollare dentro la cartella di installazione di GTA V. ma solo nella cartella di installazione, quindi non anche nella cartella mod, semplicemente qui, facciamo incolla, e la nostra mod è praticamente installata. Però, come suggerito anche sulla pagina della mod, possiamo anche installare il file che c'è dentro la cartella update per aggiungere un effetto atmosferico in più che aggiunge una sorta di neve con la nebbia. Noi comunque la installiamo perché ci metteremo pochissimo. Adesso dobbiamo seguire tutto questo percorso dentro OpenIV, me lo fa vedere qui in alto, quindi apriamo OpenIV, o Open4 come lo volete chiamare, non importa, entriamo in Edit Mode, e nella cartella Mods, giustamente, seguiamo tutto il percorso che vediamo qua in alto, quindi Update, Update RPF, Common Data, Time Cycle. Qui aggiungiamo il nostro file premendo sul tasto più, vedete che io ce l'ho già qui, www.blizzard.xml, facciamo apri, e abbiamo aggiunto la nostra parte aggiuntiva per la mod. Adesso non ci resta che provare la mod all'interno del gioco. Ok, entrati nelle nuove realtà storie, ci ritroviamo in questa schermata più o meno buggata, in cui dobbiamo scegliere solo il personaggio. È solamente una skin, non cambia assolutamente niente tra un personaggio e l'altro. Possiamo scegliere e scorrere tra i vari personaggi con i tasti 4 e 6, e poi quando abbiamo scelto premiamo il tasto 5. Adesso siamo nel mondo, come vedete ci sono anche quelle tre barre in basso, la rossa indica la salute, la blu indica il bisogno di acqua, mentre quella verde indica il bisogno di cibo. Ci sono anche i veicoli, non ce ne sono tantissimi, però li troverete sparsi per la mappa, di solito in mezzo alla strada. E come vedete adesso i veicoli hanno anche un indicatore per la benzina, quindi una volta che quell'indicatore sarà a zero il veicolo sfemerà. Il nostro scopo principale è quello di trovare delle casse o dei contenitori simili, in cui troveremo all'interno cibo, acqua, armi e munizioni. Come consigliato anche sulla pagina della mod, bisogna cercare soprattutto nelle metro, come vedete qui c'è già una cassa, per raccoglierla basta che premiamo E e lui l'avrà raccolta. Per accedere all'inventario e vedere che cosa abbiamo raccolto, premiamo F5 e ci si aprirà quella tendina in alto a sinistra. Come vedete abbiamo raccolto cibo e anche delle munizioni per lo shotgun. Se vogliamo per esempio utilizzare il cibo, basta che premiamo il 5 sul tastino numerico e possiamo scegliere se utilizzarlo o buttarlo per terra. In questo caso se faccio usa vedrete che la barra del cibo sale, stessa cosa succederebbe anche con delle bottiglie d'acqua se le trovo in giro. E niente ragazzi, la mod si basa su queste semplicissime cose, spero di esservi stato d'aiuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!